Custodire ogni vita, questo è il tema della veglia di venerdì prossimo presso la chiesa dei frati di Gaggiola. Come si svolgerà? Si svolgerà un po' come sempre tutte le veglie, diciamo ci sarà una prima parte iniziale con la lettura di una meditazione sia una parte del messaggio dei Vescovi sia meditando due piccoli brani di Papa Francesco sui discorsi che ha fatto. Novità diciamo di quest'anno, nei primi due parti su queste meditazioni metteremo anche due domande per un esame di coscienza personale che non abbiamo fatto. Poi ci saranno naturalmente le letture dei brani del Vangelo, quindi due letture, il Salmo, poi delle preghiere dei fedeli che abbiamo fatto in collaborazione, fatte diciamo collaborazione con il Masci, il Scout, la Gesci, l'Università di Per la Vita, la Comune di Liberazione quindi ecco l'Associazione della Famiglia che è del consultorio familiare. Quindi ecco poi si concluderà con l'Omeria del Vescovo e la Benedizione ecco. Ecco ci sarà anche un momento particolare con una testimonianza di Susanna Boh. Sì, sì, dopo le meditazioni, l'esame di coscienza ci sarà la testimonianza di Susanna Boh che è una persona particolare, particolare perché della sua vita è un po' particolare ma che è una persona di fede che comunque è conosciuta anche a livello diciamo nazionale perché partecipa anche a alcune conferenze con le associazioni pro vita per le nazionali tipo pro famiglia insomma così. Vogliamo fare un invito a partecipare perché è davvero un momento edificante. Sì, un momento edificante anche perché diciamo abbiamo bisogno di ripartire e riprendere la vita normale insomma con questa pandemia che ci ha bloccati tutti in casa tra le paure quindi è anche un momento di speranza perché proprio anche il messaggio dei Vescovi parla proprio di ritornare la speranza, la libertà perché solamente attraverso l'amore verso gli altri, quindi la contivisione, possiamo vivere la nostra vita bene.